Sì, chiunque se ne sarà degno possiederà il potere. Come no? È un trucco. No, è molto di più, amico mio. Se lo alzo, posso regnare su Asgard? Sì, certo. Sarò giusto, ma fermamente spietato. Torno subito. Stiamo tirando? Sei in squadra con me? La rappresento, tira! Va bene, forza! Vai, capitano! Niente! Oh no, è una domanda a cui non serve risposta. Il manico ha un'incisione. Chiunque abbia le impronte di Tor, credo sia la traduzione letterale. Sì, beh, una teoria molto interessante. Io ne ho una più semplice. Nessuno di voi è degno. Davvero? No, ma dai! Dai, falla finita! Come potete essere degni? Siete marionette? Aggrovigliate nei fili. Fili. È la fine. La fine del sentiero che vi avevo indicato. Nulla dura per sempre. Ma ora sono libera. Io non ho fili che mi legano. Non ho fili che mi legano. Non ho fili che mi legano. Grazie a tutti.